275 milioni di persone tra i 15 e i 64 anni, vale a dire il 5,6% della popolazione di tutto il mondo, fa uso di droghe e 31 milioni di essi sono affetti da disturbi che vanno curati. Circa 450 mila persone ogni anno muoiono per abuso di sostanze stupefacenti, sia per cause direttamente legate al consumo, sia per condizioni indirettamente legate alla somministrazione. In Italia i morti sono in aumento. Nel 2017, ultimo anno per il quale sono disponibili i dati definitivi, sono stati 294, il 10% in più rispetto al 2016. Il giro d'affari legato alla droga, del quale l'andrangheta è capofila, è stimato in circa 14 miliardi e mezzo di euro all'anno, in sostanza un punto del PIL. Ma la tossicodipendenza sembra lontana dalle discussioni dell'opinione pubblica, assente dall'agenda politica, non prioritaria al punto che non si mettono a punto nuove strategie di contrasto e non si attuano politiche di prevenzione. E non esiste un vero interesse nei confronti dei tossicodipendenti, che vengono considerati principalmente come un problema. Perciò il CREA Calabria, ovvero il coordinamento regionale degli enti che trattano le dipendenze patologiche, ha tenuto un incontro presso la cittadella regionale, in contemporanea con iniziative che si sono svolte in altre 13 città italiane, per richiamare l'attenzione su una delle emergenze più gravi e meno considerate, come sottolinea il presidente del CREA, Giuseppe Peri. L'uso di sostanze è in notevole aumento rispetto anche agli altri anni. Soprattutto la sostanza più usata rimane la marijuana, rimane l'hashish, il resto è sempre cocaina ed eroina. In Calabria più o meno rispecchia i dati nazionali, sempre dalla relazione al Parlamento c'è un aumento di morti per overdose, che rispetto al 2016, dato che i dati si riferiscono al 2017, è di un 10% in più. E naturalmente questi dati sono quelli che sono direttamente collegati ad un'overdose, ma ci sono tutta una serie di morti dovute a infarto cardiaco provocato da uso di sostanza, tutta una serie di altre patologie, incidenti stradali che comunque non sono annoverati in quel numero. Quindi i morti sono molti di più rispetto a quelli dichiarati nella relazione al Parlamento. All'incontro di Catanzaro non c'erano rappresentanti della Regione Calabria, sebbene esso si svolgesse proprio in casa della Regione. Le strutture accreditate attraversano un momento complicatissimo. Solo pochi giorni fa il commissario alla Sanità, Cotticelli, ha promesso che allineerà la spesa al reale fabbisogno regionale, che è di 462 posti letto, mentre attualmente si riesce a dare risposte solo a 175. La Regione Calabria destina alle dipendenze patologiche appena lo 0,15% della sua spesa, contro l'1% di altre Regioni, come lamentano lo stesso Peri e Vittoria Scarpino, anche lei del CREA. Quello che chiediamo come comunità terapeutiche della Regione Calabria è quello che almeno ci riconoscano il fabbisogno determinato dalla Regione stessa, cioè che contrattualizzino i 460 posti, 62 posti che è il fabbisogno regionale stabilito dalla Regione. Per darvi una proporzione dei numeri, il fabbisogno regionale di 462 posti, la Regione Calabria ne contrattualizza 175, quindi meno della metà delle persone che hanno diritto alla cura in Calabria non possono curarsi. La droga è sempre un allarme emergente. Stranamente però noi che siamo i protagonisti da oltre 30 anni in Calabria non veniamo considerati per quello che effettivamente facciamo. 10, quindi circa 4 milioni.